Aereoporto soppresso anche il volo per Vienna, ma Acquaroli resta ottimista, stiamo crescendo. Il governatore parla di situazione momentanea e annuncia il rilancio dello scalodorico. Stazione sotto scacco di una baby gang a San Benedetto del Tronto, giovane rapinato fuori dalla sala scommesse, intanto a Porto d'Ascoli trovata bomba della seconda guerra mondiale attesi gli artificieri. Saldi di mezza stagione con vendite in calo a causa delle temperature estive, continua il caldo e in tanti tornano a Porto Novo per l'ultima tintarella di stagione nonostante il forte vento. Ascoli ora la classifica preoccupa, Bianconeri poco sopra i play-out e si è fatto male anche Bellusci. La Samba frena, le rivali si avvicinano, 1-1 a Notaresco, Tieti e Campobasso a meno tre, prima vittoria in casa per l'Atletico. E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TJ Mark. In apertura torniamo a parlare dello scalodorico perché è stato soppresso il volo che dall'aeroporto di Falconara si dirigeva verso Vienna. Recuperato in extremis invece quello per Barcellona, nonostante tutto il governatore Acquaroli si dice fiducioso in un rilancio. Adio a Vienna per l'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara, mentre dal 13 novembre Aero Italia ritirerà anche il volo che dallo scalo marchigiano raggiungeva Bucarest, ma non quello per Barcellona, inizialmente soppresso dalla compagnia italiana e che verrà invece ripristinato dal primo dicembre. Una situazione, quella che si era creata la scorsa settimana, che aveva portato in Consiglio regionale agli attacchi duri di PD e 5 Stelle alla giunta guidata dal presidente Francesco Acquaroli, con il capogruppo del Partito Democratico Maurizio Mangialardi che aveva chiesto al presidente Acquaroli di riconsegnare la delega al turismo che il governatore si è invece riservata. Una situazione, quella del momentaneo mancato decollo dell'aeroporto Sanzio e del suo rilancio, ancora alla ricerca di grandi numeri da conquistare con nuove rotte, che Acquaroli spiega in questo modo. Recuperato il volo di Barcellona è una situazione che comunque resta difficile. Ma guardate, io continuo a dire a tutti che dobbiamo dare il giusto valore, il giusto peso e le giuste dimensioni a quelle che sono delle dinamiche aziendali. Ora, noi con i voli di continuità, dal primo ottobre abbiamo aggiunto ad Ancona 5 voli giornalieri che, moltiplicati per tutti i giorni della settimana, comportano, con una piccola variazione alla domenica, oltre 30 voli settimanali. I voli per Barcellona, Vienna e Bucharest erano 6 voli settimanali. Ora, io penso che il messaggio che debba passare è il messaggio più giusto, quello che si è unilateralmente deciso di ridimensionare alcuni di questi voli. Poi abbiamo visto che Barcellona è stata reinserita nelle rotte che partiranno da Ancona e credo che questo è un dato di fatto. Cioè, nell'arco di una settimana è successo tutto e il contrario di tutto. Allora, vediamo che credo che bisogna dare la giusta importanza alle valutazioni che noi andiamo a compiere, ma soprattutto dobbiamo valutare complessivamente. Quest'anno c'è stato un aumento in percentuali importanti dei passeggeri sul nostro aeroporto, un aumento importante che non deriva da una sola compagnia, ma dall'interesse di tante compagnie, a cui si aggiungono quelli che più di tutti interessano alla regione, che sono i voli di continuità, che nessuno mette in discussione e in dubbio perché c'è stata una gara di natura pubblica, c'è Enac, c'è il Ministero, c'è la regione, ci sono fondi pubblici. Ecco, io dico che bisogna continuare in questa direzione e soprattutto che dobbiamo guardare i risultati. Ci stiamo attestando su numeri importanti e soprattutto un trend in crescita. Parliamo, quando parliamo dei voli per Barcellona, Bucharest e Vienna, tra l'altro Barcellona è stato reinserito, di sei voli settimanali. Se non consideriamo Barcellona, di quattro voli settimanali su un numero di voli che è molto più ampio e che credo debba inorgogliere tutti i marchigiani. Scoperta in via Volterra a Porto d'Ascoli una bomba risalente probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale. La strada che collega l'area della Salaria al tratto occidentale di via Valtiberina è nota per la presenza di un passaggio a livello ferroviario. Il presunto ordigno bellico, una bomba a mano di tipo SRCM, faceva parte dell'arsenale ampiamente impiegato dall'esercito italiano durante il Secondo Conflitto Mondiale. La scoperta è avvenuta durante dei lavori di scavo condotti nel territorio tra San Benedetto e Monte Prandone. Sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto che presidieranno la zona per tutta la nottata fino a domani, quando in mattinata arriveranno gli artificieri per esaminare l'ordigno e capire come farlo brillare. Restiamo in riviera. Lo accertiano in tre fuori dalla sala scommesse. Lo minacciano e gli strappano con la linea cellulare. Tre giovanissimi arrestati dai carabinieri. Siamo sempre a San Benedetto del Tronto, in zona stazione. Lo hanno spinto contro il muro e minacciandolo di saldare subito il suo debito, gli hanno strappato dal collo la catena d'oro. Poi gli hanno sfilato dalla tasca anche il suo smartphone di ultima generazione, le sigarette e non paghi, volevano anche le sue scarpe, del valore di 1000 euro. La rapina è avvenuta qualche giorno fa in via Roma, non distante dalla stazione di San Benedetto, con la vittima finita al pronto soccorso. Immediatamente sul posto erano arrivati i carabinieri del Norm, chiamati da un amico della vittima e nel giro di qualche ora la baby gang è finita in manette. Si tratta di tre giovanissimi, un foggiano, uno di origini tunisine e l'altro iraniane. I tre indagati per rapina e lesioni hanno tra i 18 e i 21 anni e dopo la convalida a tutti sono stati concessi gli arresti domiciliari. Nel frattempo uno di loro era anche evaso, ma una volta arrivato in Abruzzo si è costituito. Nel suo racconto la vittima ha denunciato di essere stato accerchiato all'uscita di una sala scommesse e di essere stato minacciato dai tre per un presunto debito da onorare. Quando aveva fatto per andarsene, sarebbe stato bloccato da due giovani, mentre il terzo gli avrebbe strappato la collana d'oro. Lui è però riuscito a riprenderla e nel frattempo è stato colpito alla tempia e dalla tasca gli è stato rubato il cellulare, un iPhone 13. I tre, all'arrivo della gazzella dei carabinieri, hanno cercato di dileguarsi, ma grazie alla descrizione della vittima i militari hanno identificato a poca distanza uno della banda con lo smartphone rubato ancora in tasca. Sentitosi probabilmente braccato, il giovane Foggiano si è invece recato spontaneamente alla vicina Polfer, mentre un terzo è stato rintracciato nella sua abitazione. Un episodio di violenza, quello avvenuto in Riviera, sul quale continuano le indagini degli inquirenti, ma a cui i carabinieri hanno già dato una rapida soluzione. Restiamo nel Piceno, ad Ascoli, la città turrita piange. Piero Dottavi, storico personaggio del carnevale, aveva 61 anni e dopo un malore, avuto un mese fa non si era più ripreso, detto bistecca perché inizialmente gestiva una macelleria, aveva vestito anche i panni di agente di commercio e di consulente per diverse aziende del territorio. Insieme ai Wells Fargo, musicò anche l'inno Ascoli sei grande, partecipava spesso al carnevale di Ascoli, in coppia con la celebre Flavia Cenciarini. Porto Recanati piange, invece il giovane Leonardo Mastrella, il 29enne, è stato ucciso da una terribile malattia e morto ieri all'ospedale di Civitanova. Era stato ricoverato da alcuni giorni a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute e combatteva coraggiosamente da oltre un anno contro il brutto male. Laureato in Biologia all'Università Politecnica delle Marche, stava seguendo con passione un dottorato di ricerca in collaborazione con l'Università Autonoma de Madrid. La famiglia Mastrella è molto conosciuta a Porto Recanati per l'attività politica del padre Maximiliano. Leonardo lascia anche la madre Firminia, il fratello Tommaso, la fidanzata Leire, i nonni Anna e Tolmino. Attualmente la salma del giovane si trova all'obitorio dell'ospedale di Civitanova. I funerali sono previsti per domani, lunedì 6 novembre, alle 10.30, nella chiesa Preziosissimo Sangue di Porto Recanati. E ora voltiamo pagina, parliamo dello scherzo alla Meloni. Nell'ufficio diplomatico del Premier c'è anche l'offidana Lucia Pasqualini, delegata ai rapporti con l'Africa. Tutti la descrivono come una grande professionista e a dimettersi è stato il suo capo. Facciamo il punto. Nello scherzo delle iene russe, vova Nileksus, finisce di mezzo anche la funzionaria di Palazzo Chigi, originaria di Offida, Lucia Pasqualini. Una vicenda dall'eco internazionale che ha gettato un'ombra sulla diplomazia italiana, specie per le parole registrate e strappate a Giorgia Meloni sulla guerra in Ucraina. Tutto è partito dai comici Vladimir Kuznestaf, 37 anni, e Alixey Stoyaraf, 36, che hanno ideato la burla. Finita con le dimissioni dell'ambasciatore Francesco Talò, consigliere diplomatico della Premier. Tutto era cominciato con una mail giunta a Palazzo Chigi per annunciare la successiva telefonata. Sembra che a Roma non siano state condotte le verifiche necessarie, lasciando spazio alla telefonata fake. Nello staff di Talò c'è anche l'offidana Lucia Pasqualini, veste i panni di delegata per l'Africa dell'ufficio diplomatico, e nei giorni scorsi diversi giornali hanno riportato il suo nome tra quello delle persone coinvolte. Pasqualini, esperta nel campo diplomatico, ha lavorato in diverse parti del mondo, trascorrendo anche due anni durante la pandemia di Covid-19 come console generale a Canton in Cina. Questo è solo un capitolo della sua carriera che include il ruolo di console generale a New York nel 2010. Di lei ha parlato Beppe Severnini nel corso del programma 8,5 di Lily Gruber. Lucia Pasqualini ha detto «Non si può difendere, lo farò io. È una delle più brave giovani diplomatiche che ho visto. La conosco da 15 anni, ha lavorato in tre continenti diversi, si è fatta due anni di Covid in Cina. Credimi Lily, è bravissima. Se anche ha sbagliato, io credo che il suo capo è stato elegante e si è preso la responsabilità. Lucia non potrà mai spiegare, facendo il lavoro che fa, ma credimi, gli errori li commettono tutti. E come Severnini e altre persone hanno preso le parti di Pasqualini, moglie di Clemente Contestabile, consigliere diplomatico del ministro San Giuliano, i due stanno insieme dai tempi della laurea e ognuno ha percorso il suo cammino diplomatico. Una levata di scudi da più patti per testimoniare le capacità dell'offidana, da sempre motivo d'orgoglio per la comunità picena. Del resto, le chiamate burlone a politici e personaggi famosi non sono una novità. Vovani Lexus hanno precedentemente ingannato diverse figure pubbliche, inclusi il presidente polacco Andrzej Duda, il ministro della difesa britannico Ben Wallace, il presidente turco Erdogan e molti altri. Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, parteciperà al Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che si terrà presso la Prefettura di Macerata il 7 novembre per un esame relativo alla situazione dell'hotel house a Porto Recanati. È previsto anche un incontro con gli organi di informazione alle 12.30. L'ospedale Torrette di Ancona è il risultato primo ospedale pubblico d'Italia. L'assessore Saltamartini dice in merito anche dei nostri investimenti, ora però pensiamo agli altri nosocomi marchigiani. È stata la settimana dell'ospedale Torrette di Ancona. Per il secondo anno consecutivo l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche di Ancona si è confermata come miglior ospedale pubblico d'Italia. Nel programma nazionale esiti secondo la classifica dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali sviluppato su un mandato del Ministero della Salute. L'azienda ospedaliera universitaria figura infatti al primo posto nella classifica insieme con l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano scelto come ospedale privato. Le due strutture hanno riportato una valutazione di qualità alta o molto alta per almeno sei aree cliniche su un totale di otto. Cardiocircolatorio, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologia, osteomuscolare, nefrologia, sistema nervoso e gravidanza. Un risultato per nulla scontato, visto che in nove regioni italiane nessuna struttura ha raggiunto un livello di qualità molto alto. La soddisfazione dell'assessore alla sanità della regione Marche, Filippo Saltamartini. L'assessore alla sanità che ogni mattina riceve tante critiche sul sistema si avvale in questo caso di un passo significativo importante. Lo voglio ricordare, Torrette è il primo ospedale non solo per la capacità e la professionalità dei suoi medici e ricercatori, prima in Italia, ma anche perché la regione Marche ha concentrato tutte le risorse e gli investimenti su Torrette, per evitare che la nostra regione potesse essere impoverita anche dalla fuga di scienziati, di medici e di personale specializzato. Adesso ci dobbiamo occupare dei territori di tutte le altre città della nostra regione. E ci sono sviluppi nei processi che coinvolgono il ristoratore dissidente in epoca Covid, Umberto Carriera. La Confcommercio ha ritirato la sua denuncia, ma ne restano altre in piedi. È stata ritirata la querela nel processo per diffamazione che vede coinvolto Umberto Carriera, ristoratore referente di Ioapro, finito sul banco degli imputati per le parole considerate offensive nei confronti del direttore di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti. Il fatto risale al 9 novembre 2020, quando i ristoranti e i locali erano chiusi per via delle restrizioni legate al Covid. Carriera scrisse un post su Facebook, poi cancellato, nel quale definiva Varotti di un'ignoranza fuori dal comune. Nei giorni scorsi il pubblico ministero aveva chiesto una condanna per Carriera a quattro mesi e il giudice si era riservato alla decisione. Con un post su Facebook in questi giorni, Carriera ha affermato che con le parole utilizzate non intendeva colpire Varotti, ma criticare l'operato della Confcommercio nel periodo di emergenza Covid-19. Varotti si era costituito parte civile con l'idea di devolvere la somma. Le parti si sono lecate in tribunale per il ritiro della querela. In seguito a questo chiarimento abbiamo deciso di non andare avanti nel processo, ha spiegato Varotti. Lo facevamo per tutelare la dignità dell'associazione e il suo operato. Ora i termini sono rientrati. Non avevamo intenzioni speculative, per cui abbiamo ritirato la querela, ha concluso il direttore della Confcommercio. A giugno era arrivato a sentenza il processo che vedeva Carriera imputato insieme alla compagna Clarissa Rosselli con l'accusa di difamazione, con l'aggravante di fatto commesso contro il pubblico ufficiale e diffusione di un video o audio carpito in maniera fraudolenta. Il ristoratore Ribelle è stato condannato per difamazione. Dovrà pagare 200 euro di multa, un risarcimento di 3.000 euro per il commissario di polizia Paolo Baglioli e 500 euro per ciascun sindacato che si era costituito parte civile. Assolto Carriera perché il fatto non sussiste dall'accusa di aver carpito il video in maniera fraudolenta. Assolta Rosselli da tutti i capi di imputazione. I fatti risalivano al 15 gennaio 2021, quando Carriera aveva aperto il suo ristorante La Grande Bellezza di Monbaroccio per protesta contro le limitazioni anti-Covid. L'episodio al centro del processo è il fatto che Carriera aveva filmato, insieme alla sua compagna, l'ingresso degli agenti di polizia, diffondendo le immagini sui social e scatenando reazioni degli utenti online. Nel video pubblicato su Facebook si vedono i poliziotti entrare per contestare la multa e la sospensione dell'attività per cinque giorni per aver infranto il DPCM. Saldi di mezza stagione, è questo l'escamotaggio con cui i commercianti cercano di smaltire la merce rimasta in negozio a causa delle alte temperature. Il calo negli acquisti del settore moda fa registrare una fessione media del 20% sulle vendite rispetto all'autunno 2022, dovuto alle temperature calde e all'inflazione, che ha diminuito fortemente il potere d'acquisto di stipendi e salari. La richiesta dei commercianti è quella di posticipare i saldi invernali la prima settimana di febbraio, per cercare di recuperare un po' nelle vendite appena arriva il freddo. Ma intanto in molte vetrine compaiono promozioni, i saldi di middle season, che altro non sono, che è un modo per sbarazzarsi di quei capi di medio peso rimasti invenduti a causa del caldo anomalo. Cerchiamo di incentivare gli acquisti, già i prezzi sono buoni, con dei saldi che attirino ai clienti. Soprattutto per i capi di mezzo peso? Sì, anche se poi in saldo un po' tutto. Però sì, c'è un po' di tutto. Partiamo anche da giubini in jeans e maglioncini, un po' di tutto. Però sì, mezzo peso è quello che cerchiamo di avviare alla vendita. Hanno le vendite? In questo momento le vendite, sia per le temperature, che anche, penso anche perché la gente a livello proprio monetario, con tutti questi aumenti tra l'energia elettrica, i carburanti, il gas, qualsiasi cosa, diciamo in questo momento le vendite sono un po' rallentate. Le vendite noi siamo riusciti a tenerci salvi con gli incassi grazie al fatto che ci siamo portati avanti con le rimanenze della stagione estiva e con le rimanenze della stagione autunna-inverno dell'anno scorso. Abbiamo incentivato il cliente a entrare, a vedere, a spizzicare sia sulla stagione scorsa che su quella di quest'anno. E così siamo andati avanti. Le difficoltà per i commercianti sono tante perché a fronte di molte spese fisse dall'affitto alle utenze senza dimenticare il costo del personale ci sono incassi incerti e la speranza è di recuperare con gli acquisti di Natale. Ci si aspetta che ci sia una ripresa e speriamo che con il Natale la gente riacquisti la voglia di comprare, appunto fare regali e magari far ripartire un po' tutto il mondo dell'economia. A Natale cosa ci si augura? Ci si augura che ci sia manifestazioni giuste e che ci sia tanta gente che ha voglia di venire a Porto San Giorgio e fare shopping. E sempre a causa delle alte temperature di questi giorni in tanti sono tornati a prendere il sole a Porto Novo nonostante il forte vento. Prima domenica di novembre qui a Porto Novo con temperature primaverili un leggero vento ma tante tante persone che vengono qui a passare una giornata di relax. C'è poi chi va a pranzo. Abbiamo sentito quindi la voce di chi ha deciso di trascorrere una giornata qui a Porto Novo. Sentiamo come si sta a novembre ancora a torso nudo. Si sta bene, si sta bene. Riparati qua sotto. Lei è un'abitue del posto? Si, su 365 300 giorni in anno li facciamo. Da quanti anni se posso? E dai anni 60. Da dove viene? Benevento. Ha fatto tanti chilometri. Sono cose belle anche noi però alla fine bisogna apprezzare anche quello degli altri non solo il nostro e ne basta la pena. Porto Novo è sempre anche d'inverno è sempre valido. Come si sta a novembre ancora? C'è questo solito. Infatti, 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 è molto bello. È per me la prima volta perché non sono di qua. Dove mi vieni? Da Salerno. Quindi devo dire che è molto molto bello. Lui è di qua quindi... La porterò a fare un giro a Porto Novo poi penso che andremo a Loreto per visitare la Basilica e alla fine Città dell'Infinito quindi Recanati. Quindi, insomma, un bel tour delle bellezze marchigiane. Un bel tour. Del posto? No, sono dalla Germania. Ah, quindi insomma, un sacco di chilometri. Sì, è vero questo. Sì, siamo venuti con l'aereo stavolta. Come mai qui ad Ancona avete scelto? Io ci vengo già da parecchi anni perché ho amici quindi ritorno sempre, sì. Questo novembre? Sì, soprattutto novembre. Non importa la stagione. È sempre bello qua. Come sta andando questa prima domenica di novembre? Dai, sta andando bene. Logicamente, non so i numeri di agosto però noi siamo qui pronti a dare un servizio alla Baia e speriamo nel riscontro della gente. Quindi siamo felici di essere qua anche questo mese. Abbiamo incontrato tanti turisti anche stranieri quindi, insomma, veramente la Baia sta risplendendo in quest'anno. Sì, sì, ma quello storicamente da settembre, ecco, i mesi un po' più di bassa stagione siamo pieni di nord europei quindi tedeschi, olandesi, qualche inglese anche quindi, sì, sì, il turismo attira tutto l'anno. Con un piccolissimo, sì, come si sta qui a Porto Novo? È sempre una bella esperienza. Vedo del vino, del relax. Credo che rimarremo qui a bere e a mangiare ancora un po'. Cosa prevede la sua giornata oggi? Niente, sto una mezz'oretta qui e poi vado a casa. Qua a Porto Novo è una garanzia, il mare è quasi sempre bello così. E in questa calda domenica di novembre lo spettacolo dei laghetti ci regala anche le paperelle che amano sguazzare proprio qui all'ombra del Parco del Colero è infatti uno spettacolo bellissimo da vedere soprattutto a ridosso dell'autunno-inverno. Daniele Panarella torna ad Ascoli dopo due anni di viaggio in bici ha percorso oltre 40.000 km alla scoperta del mondo un'avventura incredibile che lo ha messo alla prova e ora è tornato nella sua Ancona. Due anni e due giorni 40.000 km dopo Daniele Panarella 34 anni una laurea in fisica e un amore sconfinato per i viaggi torna nella sua città Ancona accompagnato dalla sua fedele bicicletta. Questo ragazzo ha viaggiato in lungo e in largo toccando la costa europea tra paesaggi mozzafiato e mete inaspettate. Ho girato l'Europa più o meno seguendo la costa fino al capo nord poi era finita la costa l'ho detto c'è la Russia quindi giriamo proprio a fianco alla Russia poi era finita la Russia ho detto entro in Asia ho fatto un po' di giro del caucaso che è stato un giro del caucaso e poi sono ritornato in Grecia e mi sono addentrato nei Balcani e basta. Tipo Forrest Gump già che c'ero mancava la palla con la faccia però parlavo con la bici. Nel 2021 era partito dal passetto con l'obiettivo di raggiungere capo nord obiettivo raggiunto ma poi da lì il suo viaggio non si è mai fermato all'avventura sì ma sempre con uno scopo benefico ossia raccogliere fondi per emergency. Appena sono arrivato ad Odessa dopo 27 trincee militari kalashnikov e tutto arrivo ad Odessa mi fermo per guardare le indicazioni si ferma uno ehi tu da dove vieni? L'Italia vuoi un pezzo di pane? Questa è l'ospitalità dei popoli dell'est Europa anche se sono in guerra appena arriva uno straniero un viaggiatore gli offrono qualcosa. Quando ripartivo da Odessa un tipo che sotto i bombardamenti sempre allarme bombardamento c'era ah che fai? dove vai? se vuoi puoi stare a casa mia mi racconti la tua storia dovevo andare quindi ci andrà un'altra volta. Io non ho mai chiesto di essere ospitato io ho chiesto al massimo l'acqua e poi ci sono dei popoli meravigliosi delle persone meravigliose che al posto dell'acqua mi davano la cena e al posto del giardino mi davano un letto. Si chiude qui la prima parte del nostro notiziario qualche secondo e ci ritroveremo insieme con lo sport. e ci ritroveremo insieme con lo sport.